Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Benvenute e benvenuti a questa breve presentazione del Life Design SciLab. Coordinatore scientifico la professoressa Elisabetta Camussi. Io sono Silvia Scavingi, una delle collaboratrici. Che cos'è il Life Design SciLab? Tanto è un servizio di orientamento che fa parte di una molteplice rete di servizi messi in campo dall'Ateneo e ha l'obiettivo di accompagnare studenti e studentesse nella costruzione del percorso formativo individuale, sia nelle fasi di ingresso, quando gli studenti e le studentesse si affacciano al tema della scelta, quale corso di laurea iscriversi, sia durante il percorso, dove è normale sperimentare delle criticità e forse la questione di come affrontarle e superarle, e in uscita, quando ci si affaccia al mondo professionale prefigurandosi il proprio futuro in ambito lavorativo. Facciamo questo attraverso l'individuazione dei punti di forza e l'attivazione di risorse personali positive che sono importanti da riconoscere per sostenere progetti per il futuro, lo sviluppo di competenze, competenze trasversali, individuali e di gruppo e il riconoscimento di interessi, passioni, potenzialità attraverso la narrazione, attraverso quindi la riflessione e il racconto delle proprie esperienze sia passate che presenti in vista di definizioni di futuri possibili. Il nostro gruppo di lavoro è formato tutto da psicologhe e psicologi, esperti in orientamento formativo e professionale, il nostro approccio è life design, un modello teorico molto attuale perché aiuta le persone a costruire progetti per il futuro tenendo in considerazione le caratteristiche del mondo di oggi, quindi le dimensioni di incertezza, di cambiamento, di complessità dentro cui ci muoviamo. Gli obiettivi sono dunque quelli di rispondere ai bisogni di tipo psicologico, di orientamento ma anche di riorientamento perché nella vita è possibile e normale anche cambiare strada, l'importante è farlo con consapevolezza valorizzando le proprie risorse personali ma anche quelle riferite ai gruppi e ai contesti di riferimento, proprio per sostenere gli studenti e le studentesse nelle loro indecisioni, scegliere un'attività complessa che mette in gioco diverse dimensioni, non c'è solo il pezzo informativo ma c'è anche quello legato a sé, alle proprie idee sul futuro, sulla propria professione, sulla definizione dei propri obiettivi, sulla questione legata a cosa mi interessa studiare, quali sono le mie passioni che a volte sono difficili da individuare, le proprie motivazioni, tutto ciò che riguarda me è importante per me, a volte anche distinguendolo con quello che proviene da altri. Il nostro obiettivo è quello quindi di sviluppare la capacità di riflettere in modo innovativo sul proprio futuro universitario e professionale per migliorare le proprie progettualità e prepararsi ai cambiamenti del futuro. Il nostro servizio è rivolto quindi da una parte ai diplomandi e alle diplomande, cioè a coloro che si affacciano per la prima volta al mondo universitario, ma anche alle matricole, cioè a coloro che si sono iscritti hanno fatto una scelta, ma hanno l'obiettivo di socializzare delle risorse, di conoscere il contesto, matricole delle corsi di laurea sia triennali che a ciclo unico, ma anche delle lauree magistrali. Gli studenti che hanno delle particolari complessità e come per esempio gli studenti adulti dove il tema è quello di conciliare la formazione con il lavoro, con i carichi di cura, con la famiglia piuttosto che altre tipologie di studenti con complessità particolari come i fuori sede, gli studenti stranieri e ovviamente tutti gli studenti e studentesse iscritti in Ateneo. Quali sono le tematiche che proponiamo? Sono diverse, da una parte parlavo prima di sviluppo di competenze trasversali e risorse individuali e sociali importanti accanto allo studio e ai contenuti diciamo più legati alle materie di studio, ci occupiamo di strategie di problem solving e di adattabilità nei contesti di vita, lavoriamo sulle idee irrazionali sul futuro che a volte interferiscono nella costruzione di progettualità consapevoli, promuovendo coraggio, resilienza, ottimismo realistico per affrontare tutte quelle che sono le sfide delle quantità personali, formative e professionali, identificando vincoli e opportunità che derivano dalle proprie condizioni di vita. Cosa offriamo studenti e studentesse? Da una parte consulenze formative individuali e personalizzate di orientamento, quindi dei colloqui che hanno l'obiettivo di aiutare gli studenti a riflettere sulle proprie progettualità, a chiarirsi dubbi e a definire progettualità per il futuro. Dall'altra degli incontri tematici che sono attività di gruppo, attività collaborative e formative che avvengono in gruppo e tutte queste attività, sia i colloqui individuali che le attività di gruppo, hanno un accesso sia riservato ma anche gratuito. In questa fase le nostre consulenze le offriamo in via telematica, i colloqui sono possibili anche in presenza, di solito erano prevalentemente in presenza, anche se la modalità online l'abbiamo sempre utilizzata per quelle persone impossibilitate per esempio ad accedere in Ateneo per svariati motivi, per esempio geografici. La stessa cosa vale per gli incontri tematici o le consulenze di gruppo. Qui potete vedere alcune delle nostre proposte attivate negli ultimi mesi. Per quanto riguarda per esempio lo sviluppo delle competenze abbiamo pensato di organizzare degli incontri anche in risposta alla complessità dovuta alla pandemia, lavorando e proponendo dei cicli di incontro per esempio sul tema del coraggio, come sviluppare intraprendenza e capacità di mettersi in gioco, piuttosto che incontri sull'adattabilità che è un'altra risorsa chiave in ottica di life design per affrontare le sfide del percorso universitario ma anche rispetto alla vita quotidiana in un mondo che è in continuo cambiamento, incontri sulla resilienza, sulle competenze comunicative che sono altre competenze importanti da costruire sia per il contesto universitario che per il mondo professionale. Altri cicli di incontri per esempio sulle professioni del futuro e sulle smart skills. Un'altra serie di incontri che abbiamo proposto riguardano più l'orientamento e il monitoraggio del proprio percorso formativo, per esempio pensa a credi sogni e osa, quindi incontri sulla scelta dell'università come progetto di vita e su altre fasi del percorso, momenti che possono dalla nostra esperienza essere importanti da affrontare anche in gruppo per confrontarsi, per esempio laddove ci siano dubbi, restare o cambiare spesso è un dilemma e è utile soffermarsi e agire per acquisire una consapevolezza maggiore su quella che è stata la propria scelta universitaria piuttosto che sull'imparare a fare bilanci, bilanci che aiutano poi a proseguire ad individuare quelle capacità e strategie acquisite per poter andare avanti. Altri incontri sono poi dedicati a fasce di utenti specifiche e in questo caso abbiamo offerto cicli di incontri per gruppi di orientamento più personalizzati. Noi ci troviamo di solito in U17, una delle palazzine dell'Ateneo. In questa fase siamo disponibili per colloqui a distanza e è sufficiente mandare una mail a consulenza.psicosocialechiocciolaunimib.it per prenotare un colloquio o anche per avere semplicemente delle informazioni maggiori. Trovate anche sul sito dell'Ateneo, nella sezione dedicata ai servizi, anche il nostro servizio quindi Life Design Psy Lab dove potete vedere di volta in volta il calendario aggiornato dei nostri eventi. Di solito noi aggiorniamo il calendario ogni due o tre mesi. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, vi saluto e in caso vogliate utilizzare questo servizio che risulta estremamente utile potete scriverci. Grazie.